3 ore di viaggio per arrivare nel luogo dove svolgeremo questa stagione Sono le 2.29, abbiamo finito i test posturali Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video e bentornati nel primo vlog della nuova stagione 3 ore di viaggio per arrivare nel luogo dove svolgeremo questa stagione Pit stop ragazzi, mi mancano 2 ore ma ho una fame incredibile quindi devo assolutamente tappare questo buco nello stomaco Prenderò una barretta proteica e finirò di essere un giocatore vero Ora vi dirò le mie sensazioni, ogni volta che si comincia un anno nuovo, una stagione nuova c'è sempre una grande voglia di arrivare, conoscere i nuovi compagni, conoscere il posto, conoscere la nuova città Iniziare gli allenamenti, quindi oggi arriveremo in serata, più o meno per le 9 e mezza Andrò a cena, poi andrò a dormire e domani mattina iniziamo con i test posturali domani mattina e a pomeriggio con il primo allenamento con la squadra Non vedo l'ora di arrivare, non vedo l'ora di iniziare, quindi ora mi rimetto in macchina e ci vediamo nella destinazione Ragazzi sono arrivato finalmente dopo tre ore Sto per andare al ristorante dove mangerò stasera La città come avete visto dal cartello dove giocherò quest'anno è Albenga La squadra si chiama Albenga Ora cena Piccolo aggiornamento per la fine del primo giorno Ora sto andando al bed and breakfast dove dormirò stanotte provvisorio perché non abbiamo ancora gli alloggi definitivi Sono stanco dal viaggio, domattina dobbiamo svegliarci presto perché dobbiamo andare a fare i test Quindi ci vediamo direttamente domattina, vi dico buonanotte e domani vi racconto un po' come sono le prime impressioni della città, dello stadio, della squadra e tutto Buonanotte a tutti, ciao 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 ragazzi piccolo aggiornamento della giornata Sono le 2.29, abbiamo finito i test posturali, tutto a posto, tutto alla grande Ora sto facendo un giro per la città di Albenga, per il centro Mentre aspetto di andare al secondo allenamento di oggi che inizierà verso le 5 Faremo il primo allenamento col pallone e vediamo un po' le prime sensazioni della nuova squadra Oggi ci hanno consegnato le prime magliette e i primi pantaloncini, tutto personalizzato, buon numero Questo anno numero 37, anche pantaloncino, tutto personalizzato, ora vi saluto, mi vado a riposare un po' che fra un paio d'ore vado al campo per il secondo allenamento di oggi Ciao domani, ciao Ago Ciao ragazzi, allora dal mare vi saluto per oggi, la giornata è finita, è finito anche il secondo allenamento Abbiamo fatto un po' di esercitazioni tecniche, poi un piccolo lavoro e delle partitelle Domani di nuovo sessione doppia, io ora vado a cena, sono di nuovo cotto, specchito Noi ci vediamo domani con un'altra routine e una chicca finale Buongiorno a tutti, è la mattina del secondo giorno e può cominciare questo primo doppio della stagione Eccoci, direzione secondo allenamento di oggi, neanche il tempo di riposare Allora ragazzi, anche per oggi il dovere l'abbiamo fatto, l'allenamento di pomeriggio è terminato Stamattina abbiamo fatto un po' di forza e di lavoro di partitelle Oggi pomeriggio invece è un po' di tattica per capire i primi schemi che vuole il mister e una partitella finale Ora sono direzione casa mia, domani mattina mi hanno dato il giorno libero Perché domani mattina ore 10.30 mi laureo Mi laureo in scienze motorie, la triennale, quindi ora mi faccio tre orette per tornare a casa Faccio la laurea domattina e poi in serata ritorno di nuovo qua ad Albenga Che così giovedì mattina sono per l'allenamento Perché giovedì c'è doppio, puoi venire di doppio, sapere un altro allenamento È dura, è dura ragazzi, però anche questa stagione è iniziata È iniziata bene, speriamo che ci porti tante soddisfazioni Proclamo dottori in scienze motorie per un ritrovo calcio Rasetti, Andrea con la votazione di 107 su 110 Bene ragazzi come avete visto sono diventato dottore in scienze motorie Vi hanno dato il massimo della tesi 107 su 110 Sono molto contento, sono molto felice Ma ora sto tornando, sono le 8 di sera, sto tornando verso Albenga Perché domani mattina già come vi ho detto c'è allenamento Ora io vi saluto, vi dico che il video è finito È stato un video introduttivo per quello che è la nuova stagione E quello che sarà il nuovo anno Che vi racconterò ovviamente su YouTube Vi ringrazio se avete visto fin qua Il 31 luglio noi partiremo per il ritiro Faremo due settimane di ritiro Quindi magari il prossimo vlog sarà proprio il giorno di partenza del ritiro Non lo so, vediamo Adesso quello che riuscirò a filmare filmerò E pian piano poi vi racconterò sempre più cose di questa nuova stagione Vi saluto di nuovo Grazie di aver visto fin qui Se non vi siete iscritti iscrivetevi di nuovo Tutte quelle cosine che si dicono Dalla solita macchina La Masigno Mobile Vi do la buonanotte E vi dico che ci vediamo nel prossimo video Ciao, ciao a tutti Buongiorno a tutti ragazzi Oggi è il decimo Undicesimo giorno di ritiro Tutto quasi pronto Per la prima amichevole Grazie a tutti